tutto ebbe inizio con genoani si resta il podcast dei grifoni sparsi per il mondo da allora abbiamo incontrato e continuiamo ad incontrare tantissimi genoani ad ogni latitudine non tutti loro però vivono all'estero era quindi giusto dare uno spazio anche a tutti quei grifoni che sono lontani da genova ma che sono rimasti a vivere nello stivale e fu così che nacque genoani si resta in italia genoani si resta già perché in fondo si può nascere grifoni oppure lo si può diventare ma quello che conta è rimanerlo soprattutto vivendo lontani dalla superba in ogni puntata del nostro podcast interveristeremo uno di voi genoani sparsi per lo stivale che mantenete viva la fede rosso blu nonostante siate dovuti andare via da genova oppure perché no nonostante siate nati lontani dalla lanterna e per qualche strano motivo vi siete comunque innamorati del vecchio balordo nel nostro podcast si parlerà ovviamente di calcio e di grifone ma anche delle città in cui vivete delle loro bellezze dei loro sapori e perché no delle loro stranezze il nostro sarà dunque un viaggio lungo tutta la penisola come ne abbiamo fatti tanti a seguito del nostro genoa in auto moto o treno questo però sarà un viaggio immaginario e purtroppo per noi che viviamo all'estero potremo solamente sognare le trattorie che ci consiglierete benvenuti e benvenute a una nuova puntata di genoani si resta in italia il format di genoani si resta in cui andiamo alla ricerca di tutti i genoani sparsi lungo la penisola e anche oggi sono solo con il buon Matt dalla Polonia perché Tobia il nostro compare scozzese anche oggi non è riuscito per impegni di lavoro eh però appunto eh la new entry di di Matt ci consente di essere più più costanti nella 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 registrazione delle puntate ciao Matt come come butta lì in Polonia ciao Henry guarda qua diciamo che la situazione comincia già a farsi abbastanza fresca nel senso che stamattina stamattina sono uscito di casa per portare i figli a scuola c'erano cinque gradi però almeno c'è il sole quindi quello è già una cosa è già una cosa positiva però sono già le prime abisaglie del del lungo inverno che ci toccherà ci toccherà passare quindi vabbè è freddo eh diciamo però c'è il sole è un po' come a Bogliasco diciamo no? Che fa un po' freddo a livello di punti però c'è sempre l'arcobaleno eh certo ovviamente a Bogliasco c'è c'è sempre il sole benissimo allora beh invece qua a Barcellona insomma dai eh si sta rinfrescando però io dico finalmente ecco detto questo bando alle ciance perché eh abbiamo un dobbiamo presentare la nostra ospite di oggi eh e dico la nostra perché eh abbiamo un'altra quota rosa per il nostro programma la prima di questa seconda stagione di Gionani si resta in Italia e quindi diamo il benvenuto a Serena da Biella ciao Serena come stai? Ciao sto bene grazie grazie mille grazie per l'invito innanzitutto volete un aggiornamento sul meteo biellese visto che abbiamo fatto ma sì dai puoi parlarci di quello che vuoi in Serena ci mancherebbe altro vabbè Biella insomma stupisce sempre per il clima spesso uggioso però a volte dona anche delle bellissime giornate assolate vista montagne meravigliose quindi si sta bene 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 ma ti vediamo ti vediamo raggiante comunque ecco eh al di là al di là del meteo bene allora facciamo come come al solito un un breve riassunto introduttivo seguendo la la tua scheda Serena quindi abbiamo con noi Serena de Pasquale detta wonderena se correggimi se sbaglio poi magari ci spiegherai il perché eh di Biella appunto eh dice non è sposata ma convive con assolutamente sì un genuano dice come potrebbe non essere genuano eh il mio consorte non ha ancora figli eh ma appunto sendo due genuani sono convinto che se se ne avrete li li porterete sulla sulla via della perdizione assolutamente e nata a Biella ecco questa è la la cosa interessante eh perché come sempre dico eh è bello andare a scoprire eh che si sono trasferiti da Genova ad altre regioni italiane per vedere come si vivono la genuanità eh dalle loro parti però è anche molto più interessante andare a scoprire eh quei genuani che sono genuani nonostante non siano nati a Genova o in Liguria quindi eh Serena iniziamo come tutti con tutti gli ospiti eh e soprattutto con chi appunto non è nata a Genova nel chiederti quali sono le ragioni della tua genuanità qual è la genesi della tua fede genuana beh dunque beh effettivamente è una domanda che eh sento ultimamente formi in tanti dunque innanzitutto non vuoi sapere perché mi chiamano Wonderena? Assolutamente guarda ma tu come come tutti gli ospiti che 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 vengono da noi sei liberissima di di seguire il tuo filo conduttore assolutamente vai vai ma giusto per creare un po' di suspense così per non arrivare proprio dritti al punto del come assolutamente assolutamente ma allora beh semplicemente perché io mi chiamo Serena quindi fin da piccolina Ena è sempre stato il mio soprannome diminutivo e già quello è curioso perché di solito si si chiamano Sere no? Le Serena invece sì effettivamente anch'io ho sentito sempre Sere come diminutivo di Serena te l'hanno abbreviato al contrario come si fa qua in Spagna no? Eh sì è vero ma sì mio fratello da piccolino ha tirato fuori questo Ena e poi così è sempre rimasto e poi da Wonder Woman è andata Wonderena ma perché io sono una che non riesce a star ferma cioè io proprio non riesco a stare con le mani in mano quindi sono sempre fin da piccolina ho sempre creato disegnato cucito ricamato ballato cantato ma proprio cioè proprio impossibile per me stare ferma e quindi da lì nasce questo questo soprannome e che insomma è venuto fuori in modo spontaneo ecco ma guarda da due minuti che parlo con te mi sembra già che che calzi comunque ti vedo bella bella energica ecco quindi sì 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 no ma si vede che comunque c'è c'è appunto positività perché comunque sei sempre sorridente e poi anche proprio cioè si sente nella voce che sei cioè che comunque ce n'hai di energia ecco sì 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 perché sennò mi annoio quindi la vita è un'occasione per divertirsi secondo me sempre e quindi bisogna approfittarne d'accordissimo 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 e siccome appunto già ti diverti troppo hai deciso però di di essere genuana a un certo punto della tua vita quindi sicuramente non ti manca la suspense non ti mancano le emozioni però ecco magari diverti divertente proprio non lo ecco o comunque non sempre ecco ma guarda invece devo dirti la verità che ho iniziato a divertirmi molto di più da quando ho proprio abbracciato questa grandissima fede ho veramente conosciuto persone favolose cioè io adesso sono qui che sto registrando un podcast con voi parlando del Genoa cioè ragazzi quando quando mi sarebbe mai capitato altrimenti no quindi è grazie al Genoa che mi diverto anche moltissimo quindi è proprio una bellissima occasione io ringrazio sempre di aver incontrato il grifone nella mia vita perché proprio me la rende migliore cioè davvero ma non scherzo senti che bello Matt quando senti a parte tutte le voci femminili che abbiamo avuto nel nostro podcast ci portano sempre positività non so perché sono sempre appunto quelle che hanno fiducia nel futuro va bene anche se abbiamo perso e quindi veramente ci vuole ogni tanto eh una presenza femminile del podcast che ci riporta un po' il morale su su livelli corretti ma poi soprattutto dare un po' di endorfina esatto ma poi soprattutto i i i genuani di fuori di Genova che non hanno il mugugno inside senti come sono raggianti incredibile incredibile eh ma in questa puntata ce ne sono due oltretutto beh sì sì esatto 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 tra le altre cose bravo 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 perché anche tu come appunto i ormai i nostri ascoltatori sanno appunto sei sei un po' un mix no tra tra Udine e il Piemonte e quindi esatto quindi siamo anche conterranei io e Serena in un certo in un certo qual modo lei un po' più a nord io sono un po' più nelle vicinanze di Torino però comunque siamo sempre siamo sempre della stessa della stessa terra ecco in questo caso la mia adottiva bene 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 che poi ci sono delle similitudini tra biellesi e genovesi eh comunque non è che c'è proprio questa distanza anche di atteggiamento e di approccio alla vita cioè il mugugno è una pratica molto celebrata anche qui bene 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 quindi insomma eh quindi te sei raggiante di tuo quindi niente ecco beh sì mi chiamo Serena non potrei essere diversa Serena più Wonder Woman quindi insomma siamo apposta così nome nome ci sta esatto benissimo ascolta quindi insomma dopo aver creato giustamente un po' di un po' di suspense raccontaci un po' come come è avvenuto il tuo incontro con il grifone beh allora preparatevi i fazzolettini perché è una storia che ha anche così dell'emotivo e del commovente almeno no ma siamo abituati guarda siamo abituati perché poi eh sorprendentemente nonostante poi alla fine Genoa mh è sempre pur sempre una squadra di calcio alla fine però eh chi abbraccia questa fede sempre ci riserva storie spesso che che raccontano di famiglia che raccontano d'amore che raccontano di tante cose quindi siamo pronti siamo pronti per la per per le per le lacrime o per quello che per le emozioni che ci vorrai riservare ecco ok allora beh io ho sempre orbitato un po' attorno al mondo del calcio un po' perché da piccolina avevo due fratelli più grandi che insomma seguivano le partite io ero lì che guardavo in tv poi eh dopo un po' mh ho collaborato ho scritto in un giornale locale di calcio proprio la domenica andavo delle partite scrivevo le pagelle chiamavo gli allenatori insomma ho sempre un po' orbitato attorno al mondo del calcio però mh sono sempre rimasta un po' esterna no a questo a questo mondo poi ho incontrato il mio compagno mh che ha vissuto a santa per un periodo poi lui era impatriato a biella un colo biellese come me e a santa margherita quindi no sì 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 ha vissuto a santa margherita sì sì quindi allora l'incontro con quella che è stata mia suocera per un breve periodo purtroppo è stato quello che è stato proprio l'elemento determinante perché mi ricordo che lei mi raccontava proprio i suoi incontri con queste amiche genuane che aveva conosciuto nei distinti perché lei andava a vedere le partite nei distinti e mi mi raccontava di questa famiglia come se fosse proprio un qualcosa che lei ti portava nel cuore ma anche se erano passati tanti anni dall'ultima volta che era stata allo stadio marassi no e io l'ascoltavo dicevo ma che situazioni particolari che mi raccontano una donna diciamo normalissima che non diresti mai perché non è che parlaste di calcio continuamente eppure raccontava di questi suoi ricordi come qualcosa di veramente meraviglioso e prezioso che si portava nel cuore poi da lì ho tentito sempre di più la la come l'esigenza di di andare a vedere di cosa si si riferisse no lei intanto però non c'era più perché adesso lei come dico sempre guarda le partite dal terzo anello della della nord e ogni volta che vado allo stadio guardate sembra può sembrare veramente pazzesco assurdo ma è come se la sentisti cioè come se ci fosse un legame ma ma che va oltre lo spazio il tempo io so che lei c'è ed è lì ed è qualcosa che all'inizio le prime volte io ho pianto come un non so che cosa perché quell'energia veramente travolgente quindi da lì da lì non ho più avuto ma nessun dubbio ma nessuno e quindi è nata la mia la mia espansione sempre più anche esplicita della della passione genoana del mio essere parte di quella famiglia che ha veramente il cuore rosso blu non è solo un clamp che può apparire carino ma è proprio qualcosa che senti dentro io vedo proprio un legame tra queste persone sentono un qualcosa di superiore che va oltre è una fede che va oltre l'ambito calcistico e l'ho sentito dal primo momento ed è quella cosa speciale che poi dopo ti fa vivere tutto con grande entusiasmo sono d'accordo sono d'accordo anche oggi quindi abbiamo avuto insomma una 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 bella storia commovente a suo modo e assolutamente ti capisco benissimo e perché diciamo io sono legato a doppio filo con il genoa anche tramite un amico che è mancato e e quindi insomma eh quando vado ingradinata eh lui lo sento come dicevi tu eh e lo sento lì con me assolutamente e e anzi lo saluto ciao Jack e e quindi insomma se se vedi se vedi lo striscione Jack vive sono sono i miei amici che che portano sempre in alto il suo nome e e quindi sì eh il griffone storia di famiglie storie di 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 eh di relazioni no di 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 ricordi familiari eh che appunto magari ti legano con persone che non è che tu le 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 relazioni immediatamente al calcio perché il genoa non è semplicemente calcio è un qualcosa che che trascende e lo hai descritto molto molto bene assolutamente sì e quindi tu da 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 biella poi hai cominciato ad andare a vedere il genoa no eh ti riesci ad andarci spesso ti capita di di andarci sì come no appena posso scappo punto la macchina verso genova anzi faccio in modo da organizzare tutti gli incontri che ho anche di tipo lavorativo ehm proprio in concomitanza con le partite in casa così da poterle vedere tutte sì sì assolutamente ormai è macchina e qualche qualche episodio particolare che hai da raccontarci su magari sulle tue prime volte allo stadio o o in generale comunque di cose che hai vissuto allo stadio? Beh dunque il ricordo che ho della mia prima partita che ho visto allo stadio in occasione tra l'altro di Genoa Juventus che era maggio del ventidue eh periodo il mio compagno è sempre stato un po' restio no? Nell'andare nel propormi di andare a vedere la partita nel periodo in cui c'era preziosi perché l'avevano insomma l'aveva un po' allontanato dal seguire proprio le partite di persone. Sì soprattutto se uno deve partire da Biella che voglio dire non è dalla luna però insomma se devi andare a vedere quel Genoa lì con quel presidente lì soprattutto gli ultimi anni di quel presidente lì insomma capisco benissimo. È sempre un sacrificio. Esatto. Scusa se ti interrotto. No no ma è assolutamente d'accordo anche perché ci siamo proprio capiti era quello che volevo dire no? Non sapevo quanto potevo essere esplicita. No no puoi essere guarda senza senza filtri assolutamente. Io vi ricordo davvero che allora all'epoca ero stata proprio ingradinata tra l'altro con l'occasione lì e eh immaginate una che arriva per la prima volta ingradinata incomincia la partita. Cori ehm il massimo della 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 genualità perché poi il bello di di noi genuali è quello che noi stavamo retrocedendo cioè stavamo andando in B ma era come se 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 stessimo vincendo la Champions cioè c'era una un entusiasmo e c'era una ehm boh un'energia lì che è mi sono scoppiata in lacrime cioè ti anzevo senza capire il perché e il mio compagno mi fa non ti preoccupare è normale è normale benvenuta mi ha detto. Io li ho capito. Perché te magari pensavi dici ma sono diventata scema adesso tutto di un colpo che è la prima volta che vengo allo stadio mi commuovo sto modo e dici no tranquilla tranquilla è normale non siamo tutti malati non è che c'è. Ma poi tra l'altro Henry volevo dire a Serena che quando sentivo appunto lei che diceva io sono andata in una partita in cui bene o male si sapeva che la squadra era praticamente ormai quasi retrocessa e che quindi anzi no retrocessa perché è stata quella partita lì che sì diciamo che era lì lì non c'era ancora la matematica certezza però comunque ormai il punto era quello e ricordo un po' il 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 modo in cui mi sono innamorato io del Genoa perché se ti ricordi Henry e come sai io praticamente mi sono convertito quando ho visto la coreografia dell'ultima partita in casa contro il Bologna prima della della ormai a retrocessione già certificata matematica e quindi lì vedendo la gradinata nord come i tifosi hanno reagito poi le fiaccolate che ci sono state nelle settimane successive il discorso che ha fatto il presidentissimo Zangrillo davanti a tutti e la storia dell'only one year e lì mi sono mi sono innamorato del Genoa quindi sentendo Serena che dice bene o male lo stesso che lo stesso mix di emozioni che ho vissuto io è praticamente mi fa è come se mi facesse rivivere tutto quanto come è cominciato nel mio caso poi col fatto che anche lei come me è piemontese la cosa diciamo che va a chiudere un po' il cerchio eh guarda sì avete come tempistiche avete una una genesi della genuanità molto simile e insomma quindi non avete patito tutti gli anni che insomma che 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 ho patito io e altri più di me assolutamente ma ma si vede si vede parla e si sente parlando con voi la la genuinità no della 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 vostra fede nel grifone eh ed è questo il bello non ci sono eh non ci devono essere pregiudizi su Genoani si deve si nasce no e Genoani si diventa anche ed è bello che ci si diventi eh e poi soprattutto come dice il nostro podcast Genoani si resta eh perché poi soprattutto chi come noi vive all'estero o chi vive in una città che non è quella di Genova eh deve poi fare i conti con eh con con il proprio eh ambiente quotidiano no e e non è sempre facile mantenere eh salda la fede genuana eh abbiamo ancora cinque minuti prima della pubblicità serena eh dici un po' come si vive la genuanità a Biella cioè ehm è difficile perché ovviamente tutti tutti ti fanno altre squadre eh o comunque tu te la vivi bene beh allora io me la vivo bene anche perché dobbiamo dirlo Biella è la città natale del Gila eh quindi ah beh sì 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 quindi in sto periodo benissimo sì 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 oltretutto io vivo proprio nel suo paese di nascita cioè i miei vicini di casa sono suoi parenti per dirla quindi sento un afflato di genuinità ogni volta che esco di casa è bellissimo allora salutiamo il Gila che ci ha colta a te ecco sì eh diciamo che qui beh la maggior parte dei 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 tifosi qua ti fanno toro di di genuani c'è c'è qualcuno in particolare c'è un un bar bellissimo un po' più in su rispetto a Biella perché rimane a piedi cavallo eh ed è di un ragazzo genuanissimo infatti andare in quel bar stupendo perché è tappezzato di griffoni e ovunque ed è veramente come sentirsi un po' a casa e ci sono ogni tanto degli adesivi per Biella non so chi è che gli possa aver messi eh io non so proprio magari con il gemellaggio con il Torino quindi sono più Granata lì a Biella non ci sono tanti juventini quindi si sta bene si respira si respira un'aria tutto sommato ecco respirabile insomma respirabile è respirabile sì 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 è respirabile bene bene quindi insomma sei circondata da dagli amici Granata che per me poi non mi interessano i gemellaggi roti non roti per me i Granata insomma eh ho iniziato a seguire il Genua che eravamo amici e ho tante amicizie che si sono create nel corso degli anni quindi per me i Granata rimangono assolutamente amici e quindi niente sì sì capisco la la vicinanza e il perché trovi tappezzato di adesivi ecco perché assolutamente sì 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 ci sono dei griffoni da qualche insomma di un po' di tempo questa parte che ci puntano in giro e e quindi no devo dire che la la si vive bene la si vive bene c'è poco inquinamento diciamo assolutamente se vuoi fare se vuoi fare pubblicità al bar e dire come si chiama dove si trova questo bar del Genuano fallo pure eh che anzi perché poi dopo la pubblicità andremo a parlare nello specifico di Biella e quindi cominciamo da questo punto cardinale ecco sì 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 il bar si chiama Bar Lacenza e rimane a piedi cavallo e mio caro amico Mattia tra l'altro con il quale abbiamo anche visto delle partite insieme ogni tanto quando c'è modo eh ci incontriamo a Roxy giù vicino la la l'iconica gradinata rosso blu davanti al Marassi e poi andiamo a vedere la partita insieme eh sì e lui si porta sempre diversi amici perché poi converte gli giuventini in futuri genuani e quindi sì eh però appunto altri nuclei genuani a Biella non ce ne sono c'è stato un Genoa club tempo fa che però poi si è sciolto e club più vicino è Grifoni Torino ok sì 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 e abbiamo intervistato diversi genuani in Piemonte infatti eh beh allora intanto salutiamo Mattia Mattia che lo sappia verrà intervistato in una delle prossime puntate quindi a questo punto come tutti i genuani sparsi eh in Italia assolutamente ecco nel frattempo eh Serena io mando la pubblicità e ci sentiamo qua eh fra qualche minuto ok ok forza Genoa a dopo ed eccoci di nuovo qui con Genuani si resta in Italia con Matt dalla Polonia e con la nostra amica serena da Biella Matt ehm visto che vabbè c'è anche oggi stai tra mille virgolette lavorando mentre registriamo eh ti vedo un po' un po' poco attivo no in questa registrazione dimmi se hai qualche domanda per la nostra ospite sì eh decisamente anche perché mh come dicevamo prima visto che condividiamo un po' le stesse le stesse origini eh mi interessava sapere due cose allora la prima che e poi in teoria è una domanda che mi ricordo mi fece il gagge quando mi intervisto durante il il podcast Genuani Genuani si resta eh ovvero eh visto che tu comunque vivi lì a Biella in Piemonte prima ci hai spiegato che a Biella c'è più una predominanza granata mentre invece essendo stato vicino a Torino c'era un po' mezzo e mezzo ma mh come mai non hai subito mai anche quando magari eri più piccolina e quindi seguivi il calcio con con i tuoi fratelli il il fascino appunto di due squadre che comunque sono hanno la loro tradizione quindi una squadra come il Toro e e come la Juve cosa che ti ha portato a non parti a tirare o da un lato oppure dall'altro da quello granato da quello bianco nero? Eh diciamo che ho schivato il rischio di cadere in in tentazioni diciamo non autentiche belle come quella che poi è stata l'esperienza genoana allora devo dire che quando ero più 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 pischellina strizzavo un po' di più l'occhio diciamo alla zebra però me ne è fregato sempre relativamente dirvi la verità proprio perché non sentivo un grande coinvolgimento eh avevo un fratello cioè ho un fratello milanista e l'altro ventino diciamo che è fino al midollo quindi anche un'altra cosa che abbiamo in comune ecco eh poi ho avuto un fidanzato interitta un ex che che non mi ha convinta manco lui diciamo che sono rimasta neutrale fino a quando poi non ho potuto vivere l'esperienza diretta che mi ha proprio travolta ma perché questo riguarda un po' è un po' la storia della mia vita io ho tento un coinvolgimento eh incredibilmente forte o altrimenti rimango neutrale ho questa caratteristica proprio perché poi a volte si banalizza questa cosa qua no del ah vabbè perché insomma il mio ragazzo la mia ragazza era genoano eh e quindi sono sono diventato genoano anche io eh però in realtà è che uno fa comunque una scelta perché non è che uno ha avuto solo una ragazza o un ragazzo nella vita e e quindi a quel punto lì dice cavolo uno poteva diventare interista invece no assolutamente no perché è genoa eh insomma ha ha una ha un fascino tutto suo assolutamente ascolta ehm rimanendo un po' a Biella insomma è arrivato il momento che 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 ormai conoscono i nostri ascoltatori no di 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 andare un po' a a vedere eh che cosa c'è di 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 bello di particolari da da vedere dalle tue parti eh se magari appunto qualcuno passa di lì per una scampagnata o eh insomma ci passa per andare a vedere il geno da qualche parte insomma eh cosa ci consigli di di vedere e cosa si mangia dalle tue parti eh se sei una buona forchetta come noi e a quel punto se ehm se hai dei non lo so qualche trattoria da consigliarci anche in questo caso fai pure pubblicità. Allora ti sono una buona forchetta mi piace mangiare mi piace cucinare quindi guarda assolutamente come tutte le persone simpatiche quindi insomma non avevo dubbi non avevo dubbi sì sì cioè la dieta non è una cosa che che appartiene che mi appartiene più di tanto allora dunque innanzitutto Biella è un luogo particolare perché è selettivo cioè a Biella ci vai se ci vuoi andare Biella non ha un casello autostradale quindi devi uscire a Santiago Carizio per arrivare a Biella devi guidare mezz'ora dopo che sei uscito dal casello autostradale da questo ehm crea proprio una selettività no? Rende Biella proprio un posto ehm non è di passaggio ma lo rende anche fascinoso proprio per questo perché ci vai e ci vuoi andare. Devi decidere di andarci sì 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 esatto devi deciderlo proprio quando hai deciso Biella ti accoglie cioè ti mostra le sue meraviglie perché è un luogo molto tranquillo cioè si vive benissimo Biella devo dire che Genova io l'amo ce l'ho nel cuore ma Biella è veramente molto molto rilassante come città. la caratteristica è che c'è questo centro piccolo con attorno tutti i paesini raggiungibili in due minuti di auto e poi attorno ai paesini ci sono delle colline delle dei laghi posti veramente incantevoli che sono proprio raggiungibili in pochissimo tempo e quindi permette di fare delle bellissime passeggiate. ad esempio è venuto un caro amico a trovarci da Piacenza l'altro giorno e l'abbiamo proprio portato a fare una passeggiata al parco della Burcina che è un parco molto conosciuto e è anche molto bello a due passi da Biella ma proprio a dieci minuti in auto che è proprio una riserva diciamo di naturale adesso è stupendo perché poi c'è tutto il foliage inizia no i colori bellissimi dell'autunno se si vuole guidare un po' di più c'è il lago di Viverone 20 minuti ci arrivi e anche lì fai una passeggiata lungo lago è piccolino però è caratteristico molto bello o se no attiva tu al santuario di Europa si chiama così perché era una volta chiamata la Valle dell'Oro e allora prende il nome Europa e c'è questo santuario dove la chiesa vecchia risale proprio a tempi molto antichi infatti è stata costruita su un masso con caratteristiche proprio anche di origine celtica molto particolare poi se no c'è la chiesa nuova più recente di postazione un po' più moderna e lì e lì se si va non puoi non mangiare la polenta perché perché lì la polenta si fa in un modo particolare si chiama polenta concia che sì è una roba illegale perché è stupendamente buona fatta con i formaggi dal peggio mischiati con la farina del mais e poi litri di burro fuso sopra e lì ti si aprono tutti i chakra contemporaneamente e esci da lì che sei una persona felice e quindi questa è diciamo una cosa fondamentale da un'esperienza che bisogna vivere nella vita prima o poi ma guarda più che farmi venire fame mi sono eccitato veramente no no veramente poi tra l'altro oggi mi sono fatto proprio del male perché non ho mangiato prima di registrare quindi insomma ma ti vedo che sei paunazzo che cominci a sudare in maniera importante accendo il ventilato fare adesso eh sì madonna madonna ragazzi madonna eh beh eh ma sono discorsi che a quest'ora fanno sempre fanno sempre piacere soprattutto poi se ha stomaco vuoto allora è una bella tortura però comunque a quest'ora perché lo diciamo noi stiamo registrando che è l'1.40 quindi non ho ancora pranzato mi pari di polenta con formaggi roba da codice penale ma tra l'altro serena ti volevo fare una domanda riguardo riguardo a biella anche perché io sono cresciuto appunto a rivoli vicino a torino che come contesto è molto simile a biella nel senso che adesso non mi ricordo biella quanti abitanti fa rivoli ne fa cinquantunmila se non mi ricordo male agli ultimi agli ultimi dati aggiornati biella penso che più o meno si attesti sulle stesse cifre giusto sì sì più o meno sì ecco visto che bene o male appunto il contesto è quello ecco ti volevo chiedere solitamente i biellesi nel weekend che cosa che cosa fanno cosa piace fare i biellesi da me ad esempio non so se andava in centro in piazza c'erano alcune birrerie c'erano magari non solo dei chioschi in alcuni parking in centro città c'erano quei tre o quattro posti che erano caratteristici dove si svolgeva la movida rivolese e quindi mi interessava sapere visto che il contesto è simile cosa fanno solitamente i biellesi nel weekend beh allora io sono un po' fuori dal giro da un po' perché la mia vita è un po' eremitica devo dirvi la verità quindi suppongo che stiano ancora in voga quei locali che insomma frequentavo anch'io fino a un po' di anni fa non sono tantissimi perché come vi dicevo biella tende a puntare di più sulla natura sulla tranquillità c'è la famosa via centrale via italia che diciamo sì ha qualche pub baretto diciamo che c'è un posso posso nominare un pub che io frequento sempre che nomina nomina pub trattorie assolutamente poi la natura ci vuole perché dopo che ti sei mangiato quella roba lì qualche camminata la devi fare per forza se ce la fai no veramente non smaltisci niente sì c'è un pub che si chiama afterglow e io lo trovo lo trovo veramente meraviglioso anche perché in una zona molto centrale ti mangia benissimo dave è veramente una persona accogliente capace si mangia più bene poi spilla delle birre che sono una meraviglia apriamo la parentesi birra biella è la città dove c'è la sorgente della lauretana con la lauretana ti fa anche la menabrea infatti proprio quello volevo arrivare perché la menabrea è una delle mie birre preferite e se non sbaglio è una delle poche in italia tra quelle che diciamo sono non a livello industriale tipo Peroni o tipo Moretti che non è ancora stata assorbita da qualche grosso colosso dell'industria del lupolo se non sbaglio sì ma non lo sarà mai perché il brand appartiene a una famiglia che è molto legata quindi all'azienda quindi non lo sarà mai 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 ve lo posso assicurare sì oltretutto vi dico questo abito a 100 metri da un birrificio artigianale fantastico grazie non va qui in centro vai veramente lì capito sì si chiama birrificio un terzo e c'è una birra che io adoro che tra l'altro è quella che viene distribuita anche all'after blow pub si chiama Ducado se venite a Biella io vi consiglio di assaggiarla perché è una roba ma buona a dir poco veramente buona poi se vi piacciono le IPA è il posto veramente giusto direi a questo punto che stiamo facendo tecnicamente la promozione verso la via della perdizione perché abbiamo qua birrifici a 100 metri poi appunto Polenta Concia neanche a tanti chilometri da Biella qui veramente c'è poi possiamo definitivamente stampare i necrologi siamo a posto tiena se mi butto giù dalla finestra comunque detto questo perché se no veramente soffro troppo no mi sembra rimanendo nel contesto nel contesto biellese mi sembra interessante dirci di cosa ti occupi tu lì a Biella perché è comunque legato anche al griffone sì è vero allora dunque io diciamo mi definisco non mi definisco perché non mi piace definirmi però la mia vita è fatta di arte diciamo così cioè io creo questo proprio punto creo la mia vita è creare diciamo che principalmente mi occupo di creazione di gioielli gioielli amuleti quindi uso molto le pietre uso molto l'oro perché ha una frequenza molto protettiva quindi mi occupo anche di proprio di creare amuleti che abbiano un senso proprio energetico in sé non soltanto oggetti da indossare ma qualcosa con un significato quindi per me è stato facile diciamo poi trasportare questa questo principio di base al mondo del griffone perché un bracciale un ciondolo rosso blu ha un significato enorme per chi lo sa indossare perché lo riconosce e allora un giorno mi sono detta ero al tempio proprio mi ricordo anche il momento era il giorno prima del mio compleanno genoa reggina mi sono detta ma perché perché non porto questa mia attività questa mia passione perché poi è unito anche nel mondo del genoa e quindi ho iniziato a creare inventare bracciali collane adesso da poco anche iniziato a creare anelli tutti rosso blu di vari tipi poi ve lo anticipo non ho ancora detto praticamente a nessuno ma sto lavorando per creare un sito genoart perché ancora non c'è però è il momento ti avrei chiesto in effetti perché ovviamente è da lì che ti abbiamo diciamo scoperto che il nostro algoritmo ti ha scoperto su instagram su facebook hai sicuramente dei profili quindi magari ecco dici dove 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 ti si può trovare e poi appunto se come funzionerà su questo sito se se spedisci se si può comprare solo lì da te in loco raccontaci un po' sì certo allora adesso io sono mi ci si può trovare su facebook la pagina genoart oppure instagram stesso nome se no sono anche su tiktok genoart spedisco perché io ho un atelier qui a biella e spedisco in tutta europa ci sono casi in cui magari coincidono degli incontri fuori dal tempio e allora magari consegno di persona ma principalmente spedisco quindi genoani in giro per l'italia e anche quelli in giro per l'europa non avete scuse perché spedisce quindi sì sì spedisco io creo per chiunque desideri avere qualcosa poi io magari soddisco le esigenze di chi magari mi dice guarda vorrei una che ne so ad esempio mi è capitato di creare un ciondolo con un grifone in oro invece che a cuore lo voleva rombo e quindi glielo ho fatto come desiderava i braccialetti sono tutti personalizzati nel senso che chiedo sempre la misura del polso se sei di un bambino se sei di un adulto quindi è tutto molto mi piace avere proprio il contatto con la persona io non è quella bigiotteria da insomma è proprio un lavoro di artigianato è un lavoro di che ha un significato è un valore anche di materiale di manufattura sì 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 proprio per me è fondamentale che prima di tutto deve veicolare l'amore per ciò che è l'oggetto come viene creato deve essere veicolata quell'energia lì perché secondo me è la cosa che il mondo ne ha bisogno altrimenti sono piene le bancarelle io ultimamente sono stata a Genova ho visto veramente degli oggetti che sono proprio un po' anche privi di sentimento se volessi dare qualche consiglio alla società Genova per quanto riguarda il merchandising ecco forse ultimamente un po' triste direi Henry facciamo un appello al presidentissimo Zangrillo a Blasquez e al buon Josh contattate Serena su Instagram e niente facciamo qualcosa per portare un po' di qualità nel merchandising genuano soprattutto appunto per braccialetti, anelli, collane insomma volentieri io sono disponibile bene 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 quindi niente ci hai detto un po' tutto ci hai detto dove ti possono trovare che spedisce quant'altro quindi ovviamente adesso farai un sito avrai quindi anche uno store online immagino no 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 non avrò uno store online proprio perché io ci tengo online avrò una vetrina poi chi vorrà vorrà un gioiello un oggetto perché poi anche un dipinto perché sapete io mi occupo anche di arte in quel senso quindi dipingo ho creato dei un quadro con un grifone in rilievo ed è tutto disponibile per chi lo desidera chiedo di contattarmi in privato proprio perché mi piace questo tipo di legame e sarà possibile perché è un progetto che abbiamo in mente con un negozio di Genova e nei carruggi si chiama Deseo vende gioielli e lì ogni tanto io tengo delle conferenze mensilmente più o meno e lì ogni tanto c'è la possibilità di trovare alcune delle delle mie creazioni ma è ancora un attimo così un'idea però probabilmente avverrà ci stai dando degli spoiler in esclusiva degli spoiler in esclusiva e beh no no è interessante no no anche perché è sempre bello vedere quando qualcuno insomma si mette in proprio e riesce a realizzare qualcosa a partire dalle proprie passioni e dalle proprie capacità non tutti hanno la fortuna ma anche la capacità e le palle di farlo ecco insomma quindi e beh soprattutto assolutamente brava Serena e anche e anche perché appunto c'hai trovato anche una bella connessione con il Genoa in questa in questo tuo progetto e quindi insomma tu ci hai detto sei di Viella insomma della zona di Gilardino però Serena abbiamo un ospite oggi che anche lui è piemontese e anche lui come Gilardino fa l'allenatore forse i nostri ascoltatori possono già immaginare chi è non so se è già disponibile ma abbiamo con noi Giampiero Gasperini ciao Gasp eh buongiorno buongiorno benvenuti a tutti ma però io devo dire siamo al abbiamo che ora è adesso sono le tredici e cinquantadue io dico è l'ora di pranzo sono qui che mia moglie mi sta preparando la bagna cauda io dico perché mi dovete rompere il genduiotto a quest'ora voglio dire mister siamo qua con una bella ragazza delle sue parti voglio dire mi sembra che insomma la contattiamo proprio a sproposito no? cioè poi la prossima partita affrontiamo la sua Atalanta quindi ci sembrava giusto chiamarla in causa ecco ah va bene quindi sono pronto per le vostre domande potete farmele ovviamente sempre con con rispetto se non mi rompete Giandoiotto con domande inappropriate io rispondo senza nessun tipo di problema ma eh niente lei ha già preso delle contromisure per per bloccare il nostro bomber che insomma che le ultime notizie dicono che sarà della partita quindi Matteo Rettegri la spaventa o insomma ha già preso le contromisure ma se devo dire la verità non mi spaventa per niente io ho già preso le mie contromisure come voi sapete io monitoro tutto perché sono sempre lì con le mie telecamere dappertutto devo avere la la situazione completamente sotto controllo pertanto ho già monitorato Rettegri e ho già provveduto a a fare in modo che durante la partita abbia magari qualche qualche problema non lo so magari qualche qualche corsa così improvvesa in bagno magari non so a causa di qualche di di un po' troppo di un po' troppo aglio nella bagna cauda che gli farò recapitare a casa e quindi io ho già le mie contromisure va bene insomma noi dal nostro punto di vista ovviamente speriamo che Gilardino riesca a deludere le sue contromisure ho un'altra domanda però da fare per lei riguardante sempre l'attualità ma non strettamente del Genoa ha visto che la sua vecchia conoscenza al Papo Gomez è andato al Monza da svincolato cosa ne pensa gli augura buona fortuna ma ma di chi stiamo parlando perché io sinceramente questo nome non l'ho mai sentito insomma il Papo Gomez voglio dire insomma deve anche in parte a lui le sue fortune da mister all'Atalanta insomma dai diciamocelo io di questa persona non ho mai sentito parlare se non se non appunto con avendo avuto delle è sparito è sparito abbiamo perso il contatto con con Giampiero Gasperini ma evidentemente la nostra domanda sul sul Papo Gomez l'ha indispettito torniamo la nostra la nostra serena il nostro momento di bellinate l'abbiamo l'abbiamo terminato spettacolari comunque Gasperini Gasperini lo fa troppo bene detto questo mi piace un sacco nella tua scheda quando sono quando ho trovato insomma che noi chiediamo sempre se insomma se uno ti fa solo il genoa o se ha anche delle simpatie per altre squadre tu rispondi io la mia squadra è il Grifone e poi le mie squadre sono due il Grifone è quella che gioca contro il Doria tutte le domeniche è una risposta che mi è piaciuta troppo e poi ti piacciono e poi sei dei Chicago Beers quindi football americano e anche questo ha in comune con Matt che adesso non si sta riuscendo a a connettere quindi come mai questa passione per il football americano? Ecco qui devo dire che è stato mio compagno mi ha contagiato proprio pesantemente perché sono sono stata invitata a andare a Londra a vedere una partita proprio perché dagli Stati Uniti si si riservano delle trasferte a Londra in Europa e quindi c'è modo di andare a vederli perché altrimenti devi andare diciamo oltre oceano e quindi venivano i propri Beers quell'anno nel 19 e quindi abbiamo così approfittato lui era già secondo anno che andava a vederli per me la prima volta e devo dire che è stato stupendo perché vabbè li seguivo già però ti rapisce il cuore proprio come loro interpretano lo sport perché la cosa bellissima è che allo stadio del Tottenham tra l'altro giocavano lì contro i Raiders lì ognuno andava allo stadio vestendo la maglia della sua squadra quindi non c'erano soltanto tifosi dei Bears tifosi dei Raiders ma c'erano anche tifosi di Green Bay tifosi dei Vikings ognuno con la sua maglia cioè era una cosa meravigliosa da vedere poi non vi dico il tailgate fuori dall'ottadio quando prima della partita è una fetta cioè una cosa tutti che mangiano bevono e fai un sacco di amicizie cioè è un mondo fantastico e quindi io ho riconnesso il cervello a mangiano bevono perché prima stai parlando arabo aramaico no no però però comprendo anzi Matt che nel frattempo sia ricollegato ti comprende sicuramente più di me per quanto riguarda il football americano Matt sei tornato? Matt ha qualche problema di audio e questo sarà sicuramente un sabotaggio da parte di Giampiero Gasperini eccomi sono tornato ah ok ok no niente eravamo stavamo parlando con Giampiero Gasperini poi si è interrotta la comunicazione siamo sul finale di puntata abbiamo ancora una decina di minuti insieme alla nostra Serena che ci dice appunto giocatore preferito grandi miti come Spensley e Ruspa quindi Testoni quindi insomma una novella genuina che però ha già capito insomma la storia e quant'altro vabbè Spensley ok perché è da lì che un po' tutto nasce però come mai Ruspa? ma io e Ruspa siamo siamo diventati amici allora è nata un'amicizia nata da poco tra l'altro lui è stato veramente carino perché ogni tanto mi manda dei video con delle sue dei suoi commenti post partita e io li pubblico con grande gioia perché è un personaggio veramente stupendo poi lui è uno di quei genuani giocatore genuano ma rimasto tale quindi cioè proprio lui va in giro con la maglietta del Genoa guida con le varie magliette col griffone anche il suo cagnolino genuano che bello che figata e quindi chi ti segue sui profili di Genuart poi trova anche questi video questi interventi di Testoni grandissimo grandissimo e vabbè insomma invece i giocatori preferiti attuali Albert e Friend come darti torto assolutamente giocatori preferiti guarda che è una che se ne intende di calcio perché George Best e Ferenc Puskas non Puskas quello attualmente nel Gen ma ovviamente quello direi di no direi proprio di no per lui quindi insomma una novella genoana che però ne sa di calcio e ne sa di Genua perché appunto fa riferimento a nomi del passato assolutamente non banali però riguardo all'attualità Serena e insomma e al futuro del Grifone che insomma si spera finalmente possa spiegare le sue ali come la vedi sei positiva e raggiante o hai dei dubbi raccontaci un po' dubbi zero sono assolutamente fiduciosa nella nuova dirigenza perché dunque tutte le volte che mi capita di sentire interviste dichiarazioni di chiunque mi ha intervistato dei 777 io li sento parlare con una sicurezza tale che secondo me al club serviva penso che loro abbiano le idee ben chiare credo anche che in qualche modo diano un certo fastidio proprio perché sono diversi sono hanno questa spinta così rinnovata rispetto all'ambito calcistico tradizionale italiano e quindi non con pochi ostacoli l'abbiamo visto anche recentemente questo gli fa ancora più onore io mi auguro che dunque gli interventi prossimi siano rivolte soprattutto a un rinnovo dello stadio e che questo stadio diventi finalmente di proprietà perché diciamocelo anche batta no cedere ciò che è nostro ad altri perché insomma dovrebbe essere un attimo gestita questa situazione è dura perché la situazione abbiamo capito tutti come va come sta andando però io credo che ci siano prospettive veramente grandiose proprio grandiose ho grande fiducia sì i segnali sono buoni l'investimento fatto per il il centro sportivo e insomma sarà dura riguardo allo stadio anche se è quello che tutti ci auguriamo per via della burocrazia italiana per via insomma lo vediamo com'è difficile farlo nella città del futuro che è Milano sono anni che vanno avanti a rendering ma insomma vedremo vedremo come si svilupperà il tutto no fa piacere come dicevamo all'inizio a vedere un po' di serenità insomma da parte da parte tua da parte dei nostri ospiti soprattutto dopo insomma una sconfitta che non ci stava come quella contro il Milan ora in questo momento siamo durante la pausa per le nazionali che insomma almeno a me mi frega relativamente poco e insomma dopo la pausa ci sarà appunto la partita con l'Atalanta di Gasperini come 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 l'hai vista la partita con il Milan un furto anche secondo te ci stava il pareggio e come la vedi la partita con l'Atalanta abbiamo cinque minuti ancora io ero ero lì allo stadio potete immaginare quindi delusione e sconforto triplicato sicuramente quel gol a noi ce l'avrebbero annullato ma anche ad altre squadre ma eppure doveva andare così vabbè totalmente rubato ma proprio lo dico chiaramente le immagini sono chiarissime altro che non c'erano immagini chiare c'erano e come è stato grandioso Zangrillo io lo adoro è stato veramente grandioso nel suo commento perché ha avuto anche il coraggio di dire le cose ad un certo punto come andavano dette io non mi sbilancio sull'Atalanta perché è sempre meglio essere scaramantici però good vibes assolutamente sì sì bene 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 Matt tu come la vedi? abbiamo questi pochi minuti finali ma allora ti dico ma sulla partita lì del Milan guarda si è detto talmente tanto e si è scritto talmente tanto in queste ultime settimane che c'è veramente ormai è quasi quasi super pro parlarne nel senso che comunque ci siamo fatti abbastanza il fegato spappolato nei giorni scorsi quindi direi che anche va bene così ma guarda una partita con l'Atalanta io sono positivo anche perché molto probabilmente appunto Reteghi tornerà disponibile ed è sicuramente un boost per noi a patto che comunque gli arrivino i palloni di cui lui ha bisogno lì davanti perché come detto più volte lui è un attaccante che ha bisogno di essere servito che ha bisogno di palloni in aria perché lui per caratteristiche è un rapace lo è sempre stato quindi speriamo che gli arrivino quei famosi palloni che gli competono ma io sono positivo perché comunque la squadra già giornata dopo giornata sta assumendo sempre di più un'identità precisa quindi sono contento dell'evoluzione di Gilardino ma del resto io comunque ho avuto sempre fiducia in lui e secondo me bisognava dargli soltanto tempo anche perché parliamo di un allenatore che nel giro di un anno si è visto proiettato da allenatore della primavera adesso allenatore della serie A di serie A e quindi io dai sono positivo anch'io ho delle sensazioni positive bene 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 ma me la sento così anche io me la sento calda ma positiva per me il Genoa insomma in modo altalenante magari a volte con difficoltà però mi sembra che sia in crescita e mi fa mi fa ben sperare quindi insomma siamo in chiusura e sono contento di chiudere con questo con questo sprazzo di fiducia Serena è stato un piacere averti qua con noi e spero che diventerai una assidua seguitrice del podcast e e nulla spero che ti sia divertita anche tu assolutamente sì piacere mio è stato veramente un'occasione fantastica grazie dell'invito e se volete ripetere io sarò disponibilissima quindi grazie mille vi aspetto a Biella per assaggiare la polenta no no ma assolutamente insomma visto che speriamo che il Genoa ci dia solo gioie invece il fegato invece di rovinarcelo allo stadio speriamo di sollecitarlo in birreria lì da te ecco quindi sì ma qui rinasce quasi rinasce sì ma infatti ecco il bello è quello lì sì 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 come la fenice che risorge dalla cenere ecco in questo caso il fegato che risorge dalla cirrosi benissimo benissimo chiudiamo 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 in bellezza no davvero un piacerissimo Matt se hai anche tu qualcosa da dire sul finale no è stata una bella puntata anche perché come dicevo appunto un po' mi sono rivisto nel racconto dell'avvicinamento al grifone perché ci sono tanti comunque punti in comune al di là comunque poi dell'origine territoriale e quindi ancora di più mi ha fatto piacere ma come dicevi tu dall'inizio di questa stagione per me è anche un modo per per scoprire sempre di più il Genoa visto che sono un Genoano recente un rookie eh sì è già è proprio così quindi niente siamo proprio in chiusura facciamo i saluti ai nostri ascoltatori ricordiamo a tutti che trovate Genoani si resta in Italia su tutte le piattaforme di podcast e trovate i social di Genoani si resta su tutte le piattaforme di social facebook instagram twitter e chi più ne ha più ne metta lo ricordo soprattutto per chi si collega da Genova è tutto gratis e quindi seguiteci siamo qui ci sentiamo per la prossima puntata e come sempre chiudiamo con forza Genoa sempre forza avete appena ascoltato Genoani si resta in Italia grazie per essere stati con noi beh se non siete ancora iscritti al podcast questo è il momento di iscriversi in modo da non perdervi i prossimi episodi vi diamo appuntamento alla prossima puntata e chissà in che regione scoveremo il prossimo Genoani grazie a tutti